analizziamo in questo terzo spazio l'evoluzione di un content creator se ci fosse un riconoscimento io lo darei a lui per la sua evoluzione la sua inventiva di chi sto parlando lui è scettico ma io ci voglio boon ed è lui un bacio è un apostrofo rosa è un apostrofo rosa tra le parole tra le parole ti amo ti amo ha iniziato facendoci ridere ma adesso arriva pensate un po anche a farmi pensare sto parlando di lui l'unico ruben orlandi ciao ciao a tutti ciao andrea e ciao giuliana te lo scrivo anche nei commenti sui social tv tvb lo stocanato dagli anni 90 proprio perché amo e apprezzo molto tutti i cambiamenti che hai fatto quali sono gli ultimi grazie allora l'ultimissimo cambiamento c'è cambiamento è un'evoluzione è un'evoluzione da qualche mese è partito priscio che è un podcast 100 per cento pugliese e quindi intervisto dei pugliesi che mi mettono in priscio appunto di essere intervistati giuli chi non ha invitato priscio noi due noi due bravissimo si è arrivato alla 27esima puntata e non c'è ancora invitato perché perché secondo me il vostro numero preferito è il 28 e quindi ho detto gli lascio il 28 ho il quarantaquattresimo posto ci viene diventato fra giugno della fare con noi vediamo vediamo come arriva il podcast ormai devo ammettere lo fa quasi la qualunque come si crea un podcast nuovo che abbia dei contenuti diversi allora io penso che adesso siano più i podcast delle persone perché qualche qualcuno addirittura due podcast e quindi si moltiplicano i podcast la mia il mio intento da c'è l'idea è nata dal fatto di voler intervistare alcune persone alcuni puglisi che mi incuriosivano particolarmente ma soprattutto io questo grande priscio di parlare con le persone ho iniziato per strada e poi ho detto vabbè facciamolo un po più strutturato cerchiamo di avere delle conversazioni più approfondite quindi ho creato il podcast priscio e si è fatto buono quanto lavoro c'è indietro quanta fatica tanto tanto perché a parte michelangelo che il cameraman che sta appunto soltanto dietro la telecamera tutto il resto è a carico mio e quindi contattare l'ospite registrare la puntata editare la puntata programmare la pubblicazione abbiamo visto il podcast la puntata fatta con glenda che mi dicevi essere un'amica ma difficilissima ad avere per un fatto di agende è super impegnata glenda ma noi siamo entrambi di turi io l'ho detto poche volte che sono di turi perché in realtà lo dico ogni cinque minuti che io sono di turi ti do una notizia sai che si fa la sagra delle ciliegie a turi hai visto non mi hai parlato proprio l'abbiamo fatta un mese fa no meno di un mese fa i primi di giugno e addirittura abbiamo portato inchiostro di puglia a turi e quindi abbiamo dato il risalto inchiostro di puglia non solo a turi ma in un posto dove tutti noi siamo un po contenti di andare un po no soprattutto per il nostro portafogli di cosa sto parlando del matrimonio vediamo vediamo piacere piacere io sono ruben lei rosa rosetta 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 hai mangiato bene oggi benissimo lui si mangia e allora non è che abbiamo mangiato avete assaggiato tu sì no un poco non è che quindi lei è una zia dello sposo sarà sua sorella padre dello sposo non capito ok l'ha visto nascere l'ha visto nascere quando è nato qua lì ho fatto i camicini i lenzuoli come era da piccolo sempre bello bello fa e mo che è peggiorato ma si può dire quando avete messo nella busta non ti dicono quello che si mette quando è quello che si merda si mette se non si merda niente più picco si mette grazie 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 noi abbiamo chiamato ruben in studio solo per un motivo volevamo sapere se zia rosetta ti avesse lasciato la mano la mano si si alla fine me l'ho lasciato però si vede proprio l'affetto di delle persone ti vuole bene poi hai toccato quella tematica scottante della busta il vostro amore ha iniziato a vacillare pazzesco come tocchi il portafoglio delle persone perdi l'amicizia infatti forse la mano giusto in quel momento me l'ho lasciato è vero proprio in quel momento ma quando capisci che la scena che sembra sorreale avrà un riscontro virale sui social ma non c'è un momento esatto cioè se mi sto divertendo io in quel momento quasi sicuramente si divertirà anche chi vedrà la puntata perché è quasi un'operazione matematica precisa come ha detto la signora precisa tarata su di te si 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 se fa ridere a me a parte a me fanno ridere tutte le interviste non tutte le interviste diventano virali però alla fine molte si dai sei diventato un content creator per incostro di Puglia ma delle linee guida appunto su questa tematica hot della busta al matrimonio le possiamo dare quanto si mette alla fine? allora la tematica più o meno è sui cioè la tema non è una tematica la la risposta giusta è intorno ai 150 euro a persona ok però 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 qualcuno ha detto che preferisce dare la busta dopo il pranzo cioè alla fine del pranzo in modo tale magari mettere anche di piccolo taglio le banconute così facilmente puoi sfilare una 10 euro se mangi male e quindi da 150 o si scende a 120 difficilmente si sale a 170 180 però mediamente per un invitato normale 150 euro e qua sposini vi che vi consiglierei di chiedere la busta prima di iniziare a mangiare prima infatti l'abitudine è questa parliamo ancora di esborsi economici però vogliamo un po' entrare nella tua vita privata questa estate 2024 so che ti prenderai un break e non so se ti vedremo in quel di Ibiza no assolutamente io proprio non sono tipo da Ibiza ma proprio zio anzi sto pensando di andare in Umbria proprio isolato dal mondo un'eremita un'eremita a pensare le nuove puntate del fritto esatto lasciando l'iPhone in Puglia e andando con un Nokia 3300 in Umbria rovini tutti i miei sogni io speravo che si fosse creata una coppia un'amicizia almeno con lui il re di Ibiza che tu hai conosciuto in questa clip ciao scusi ti do al tuo eh no eh c'è qui sto di bar ma hai più ai Ibiza si si capisce le voglio dire tu che sei giovane giovane nel senso no no in tutti i sensi di età no hai bisogno di vita di ridere di giocare di campare bene campare bene è il godere ma lei al sole sta godendo oggi? si si come un riccio è meraviglioso complimenti per il capellino niente non è scoccata la scintilla non mi ha convinto affatto in quel momento io pensavo non fosse vero che questa persona abitasse a Ibiza poi nei commenti siccome molti lo conoscevano ok ho scoperto che effettivamente fa il pendolare di Ibiza e il capellino glitterato te ne ha fatto omaggio? no ma onestamente non l'avrei voluto cioè non l'avrei gradito più di tanto dai mi è andata bene così mi è andata benissimo neanche un caffè non c'è stato niente mi ha detto se vuoi andiamo al bar però io avrei voluto continuare cioè avrei voluto ho voluto continuare a fare interviste quindi hai lasciato per si chissà che grande meeting ti sei perso davanti a quello sicuramente quanti altre perle e parlando di regali, di omaggi quindi quasi di cortesie sei approdato su Real Time come concorrente di uno degli show più temuti cortesie per gli ospiti abbiamo preso dal tuo Instagram questa foto che racconta un po' l'esperienza ma mo ti ho qua in studio e ce la racconti proprio tu è stata una bellissima esperienza perché ti confronti proprio con la televisione con i tempi televisivi con la troupe questa macchina di cortesia per gli ospiti che tu vedi tre giudici ma si muovono 15-20 persone intorno a loro tra l'altro la curiosità è che la mattina in cui sono venuti a casa mia hanno forato hanno fatto un'ora di ritardo e il pranzo da essere alle 10 e mezza che abbiamo pranzato ci abbiamo slittato di un'ora 22 e 30 no no la mattina il pranzo si ma vabbè abbiamo pranzato invece che alle 10 e 30 come era programmata alle 11 e 30 è quasi un crimine però quindi hanno da meglio alle 11 a pass al forno alle 11 e 30 quale giudice che temevi di più? Xaba e così è stato infatti è la mia esclamazione nel momento in cui alzo l'urna finale vedo che hanno vinto le nostre avversarie è mannaglia la fercina perché avevo deciso di mettere le posate di due misure diverse così pensando che fosse corretto così Xaba ha detto che non era corretto e quindi abbiamo perso la mia esclamazione è stata mannaglia la fercina mannaglia la fercina però non ne hai parlato quindi credo che tu abbia litigato con la persona che ti ha accompagnato in questa avventura no perché è stata mia madre è stata mia madre a consigliarmi di mettere la forchetta di due misure diverse però il tuo compagno di ospitalità lo vogliamo salutare sì un saluto ad Alessandro che non si è fidanzato con la ragazza dell'altra coppia ma si è fidanzato con un'altra ragazza quindi si è comunque accasato ma quindi tutto quello che avete mangiato chi è che l'ha preparato in realtà mi amate tutto mi amate noi non abbiamo fatto nulla nulla di nulla perché non era fattibile ma siete tremendi un'associazione a delinquere è un associato davvero io avrei provato con i surgelati almeno sì no non avrebbero avuto speranze probabilmente con i surgelati vedi che saranno quelli proprio buoni invece ma tipo la pasta al forno surgelata buonissima il cinese del surgelo la vendono il cinese del surgelo sì è un grande esperto è un grande esperto Ruben cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima stagione del pricio l'invito oltre all'invito l'invito probabile probabile non so che cosa aspettarmi neanche io perché ci penserò nel mese di luglio ed agosto perché adesso faccio la 27esima puntata e poi chiudo chiudo la prima stagione poi me ne vado in vacanza in Umbria avvisiamo il popolo Umbro sì devi stare attenti no ma non farò interviste in Umbria farai solo un rave a San Francesco d'Assisi sì sì organizzo un flash mob organizzo bellissimo e quindi poi a fine agosto vediamo che cosa verrà fuori sicuramente tanti ospiti magari anche un restyling del set senti se tanto mi dà tanto se 2 più 2 fa 2 4 sei molto appassionato di sport è un'estate 2024 molto all'insegna dello sport tra europei e mi dicono olimpiadi sì come la seguire chi ti dice olimpiadi dalla regia ho un autore e mi suggeriscono queste tematiche e quindi com'è e quindi già è superficialità come andrai da sportivo quest'estate con grande tifo mi stai antipato parla solo con Giuliano con grande tifo perché mi è capitato cioè mi è capitato come se è successo per caso dai non ti ho freddo dai non ti ho freddo e quindi ma non fa niente cioè e quindi è come dire dai continuo a farmi la domanda chi sei Francesca Fagnani chi sei quella di Belve io che posso essere un gattino mi sento io un gattino ci pensiamo va bene e quindi e quindi e quindi ho detto ho intervistato tre olimpionici pugliesi quindi sicuramente adesso è vietato dire e quindi no perciò beh farò il tifo per soprattutto per loro tre e vediamo come va avanti un saluto a Gigi a Vito e a Marco e forza Bari che gareggia le olimpiadi penso di sì se si qualifica ho intervisto un guizzo di regia forse in preview è possibile darlo non so se hai visto questa campagna di Adidas scatti fatti a Barivecchia con il signore delle orecchiette cosa ne pensi allora io vuoi a te se rispondi e quindi perciò perciò allora io quando ho visto questi scatti ho dato per scontato che fossero stati realizzati da Alessandro Lubelli eh ho visto lanciamo la polemica faccio così perché aspetta aspetta dateli la uno la due com'è che hai fatto così Alessandro Lubelli perché Alessandro Lubelli ha fatto il podcast con me poi ha fatto cortesie con me e fa sempre lui questi scatti queste inquadrature delle signore dell'arco basso della strada delle orecchiette ho cliccato sul post ho visto chi era taggato nel post non c'era non c'era sono rimasto basito e lui poi ieri sera ha scritto sto fatto che aveva fatto qualcosa di molto simile tempo fa per un altro brand credo fosse K sì 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 per K abbiamo salutato Alessandro Lubelli ma non abbiamo salutato delle zone della Puglia in questo momento e facciamolo ti stavo per dire e quindi mi sono trattenuto io lancio il mio saluto agli amici di San Marco in Lamis e tu? e io di Latiano questo ricorre spesso sì ricorre spesso perché me l'ha detta la prima volta Gianfranco Laforge di Sapori di Puglia amico mi ha citato questo Latiano che io non avevo mai sentito nominare come Quasano che è il suo paese di residenza Quasano e i Quasanesi Quasano e Latiano e da quel momento io sono affezionato a Quasano e Latiano e le nomino spesso guarda che assi scherzi che ti do vediamo un tuo contenuto sei quasi emozionante in questo vediamolo lo faccio sempre saluto due città della Puglia cerco sempre di unire i due poli della Puglia è lunga ed è purtroppo culturalmente divisa voglio salutare Leverano provincia di Lecce e Corato un saluto agli amici di Spinazzola e di Campi Salentina San Marco in Lamis Latiano Brindisi di Rodi Garganico e di Avetrana e di Avetrana che Avetrana l'ha suggerito lui un saluto alla città di Gallipoli e a quella di Monopoli di Este Nardo ma si facciamo un nord-sud 5 secondi di riassunto di quella di Dascalia cosa è apparso al termine del reel che in Puglia parliamo tantissimi dialetti diversi ma siamo tutti figli del Fico d'India del Muretto a secco cioè siamo una famiglia di Pugliesi ma purtroppo ci siamo divisi ma sono bellissime parole non sono tue quello del Muretto e del Fico d'India è mio la Torre di Babile no è una citazione del web ma il Fico d'India è Muretto ma tu chi sei Fico d'India o Muretto? io so Fico quindi io sono il Muretto sì beh ovvio mi sto vendicando Giuliano è la Torre di Babile un po' psichedelica preferire una focaccia a Varese fucsia dobbiamo parlare di simboli allora oggi a Social Night è venuto ospite il mio content creator pugliese preferito ehi la sentite anche voi la sviolinate eh confermo rideva come un pozzo mentre faceva la scaletta io non riuscivo a capire il perché poi mi sono resa conto vabbè ma solo perché è un momento di calma piatta per il content creator per questo sei spiccato tu quindi devo approfittare di questo momento chiudiamo la puntata vieni con me ma mi diamo il saluto alla prossima non è che ribatto il microfono dai frate fai vedere che quella non ce la fa più dai che secondo me dai a breve cede a breve cede Giulio noi salutiamo oh se mi ribatto sta l'assicurazione a telebarri io saluto normalmente no Giulio devi salutare le due città della Basilicata allora saluto Pisticci e saluto Matera e anche poliedrico ragazzi a domani a domani a domani